che tempo farà oggi oggi cielo sarà coperto con qualche schiarita 16 gradi tra quanto devo partire dovrai partire tra 15 minuti aggiunge una bottiglia di latte alla mia lista della spesa una bottiglia di latte è stata aggiunta alla tua lista della spesa fammi ascoltare la mia canzone preferita mi piace questa canzone ora mostrami una ricetta per una torta al cioccolato video chiama la mamma ciao ragazzi l'avete fatta davvero voi certo che siamo stati noi wow che bravi questo chi sta arrivando a casa oh è la mamma fammi vedere l'ultimo episodio della serie tv e abbassa la luce passa in modalità notte ok chiudo le tapparelle e abbasso la temperatura scura Grazie a tutti.